Quanto pesa questa coppa? Pochissimo, è leggera. No, è stata la giusta conclusione agli ultimi tre mesi che abbiamo fatto in maniera ottima. Ci siamo allenate duramente, abbiamo fatto un bel percorso, credo, soprattutto anche dall'arrivo di Gianni, quindi credo sia la giusta conclusione. Sei arrivata tu, avete vinto la Coppa Italia, avete vinto lo Scudetto. Magari fosse solo merito mio, no, sicuramente abbiamo lavorato benissimo di squadra, per me è una meraviglia, insomma, perché dopo la prima parte della stagione a Torino, dove insomma tutto andava male, essere arrivata in una società seria, dove sei rispettata come giocatrice, come lavoratrice e dove puoi trovare tutto quello che ti serve per esprimerti al meglio. Quanto vale questa vittoria dopo quelle che avevi conquistato a Pesaro? Ma ogni anno, forse perché con la vecchiaia si diventa più tenere, non so, ma è un'emozione sempre più grande. Questo Scudetto, ero molto più accitata rispetto alle altre finali, c'era tanta tensione in più, probabilmente perché sapevo che era ancora più difficile, quindi bellissimo, una sensazione stupenda.